Antonio Cassano ha parlato di recente dell'arrivo di David Neres al Napoli, l'ex fantasista barese si è sbilanciato anche su quella che sarà la stagione dell'esterno brasiliano sotto Antonio Conte con la maglia azzurra. Cassano in particolare, si è chiesto il motivo per il quale l'attaccante parta sempre alla poanchina, poi non capisco. Hai preso Neres se fai giocare Matteo Politano. Può darsi che non sta molto bene fisicamente. Antonio Conte sta vedendo costruire, lentamente, la sua nuova squadra. Il Napoli ha iniziato il campionato a rilento, con una sconfitta contro l'Ellas Verona, ma poi ha ingranato la marcia e conquistato punti importanti per il campionato italiano. Troppa lentezza negli arrivi, ma secondo Antonio Cassano un giocatore forte è arrivato. Si tratta di David Neres, ex esterno del Benfica che sembrerebbe poter esplodere secondo l'ex fantasista di Inter, Real Madrid e Milan. Le parole di Antonio Cassano su David Neres, non dobbiamo aspettarci 20 reti da un calcaitore come lui. Per me è una grande Kayama del Napoli. Ecco cosa ha detto Antonio Cassano, quando si parla di David Neres che segna poco, non dobbiamo aspettarci 20 reti perché quelle le deve fare Lukaku, così come 10 me le aspetto da Kwarama 8 più 8 te le può fare benissimo in un determinato tipo di calcio. Nel 3-4-3 fluido vedo che Conte ci sta lavorando tanto. Non è un caso che gli esterni si accentrano così come nel primo e nel secondo gol. David Neres può accentrarsi e se sai cosa fare. Per me è una grande chiamata del Napoli. Lele, David Neres è un giocatore di altissimo livello. Un esterno che ti punta e può fare l'assist. Nella sua carriera ha avuto tanti bassi anche per infortuni o altre problematiche visto che ha un carattere particolare. Però ha beccato l'allenatore giusto che lo farà andare a mille all'ora e lo preparerà anche bene fisicamente.